Potrebbe arrivare nelle prossime ore la tanto attesa decisione sulla riapertura della E45 dopo il sequestro per rischio crollo del viadotto Puleto dello scorso 16 gennaio. Per i consulenti della procura il ponte sarebbe pericoloso mentre per Anas no. La decisione dovrebbe arrivare comunque a breve ma la riapertura parziale potrebbe essere condizionata dall'esecuzione di alcuni lavori urgenti. Questa mattina intanto i sindaci di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano e Bagno di Romagna hanno incontrato il procuratore di Arezzo Roberto Rossi. C'è massima riservatezza su quanto detto ma i primi cittadini si sono comunque detti ottimisti. La chiusura del viadotto Puleto ha di fatto spezzato in due l'Italia mettendo in cinocchi i territori attraversati dall'arteria. La regione toscana adesso dopo aver proclamato lo stato emergenziale a livello territoriale con una delibera ha individuato i comuni interessati al blocco dell'infrastruttura il cui tessuto economico e sociale ha subito danni ingenti per la chiusura della superstrada. Si tratta di Anghiari, Bagliate d'Aldac, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro ed infine Sestino. In tutta l'area individuata e svolgimento l'attività di ricognizione del settore protezione civile della regione toscana per determinare l'entità e la natura dei danni subiti necessaria per la determinazione degli interventi di ristoro e delle risorse finanziarie da assegnare.